E' saltato definitivamente Samarzic e credetemi, credetemi, di questa trattativa mi interessa il giusto, il giusto, ma non perché il giocatore non fosse interessante un prospetto di quelli validi, l'abbiamo detto mille volte, così come mille volte abbiamo ripetuto che a centrocampo era il reparto dove eravamo maggiormente coperti, quindi è inutile che siamo arrivati alle stesse cose, anche i dettagli che hanno portato a far sfaldare la trattativa, anche questi, me ne sbatto altamente, se l'Inter, o se lo stesso, se il cambio di agente, il fatto che sia intervenuto il padre, bla bla bla, il cambio quindi sulle commissioni, sull'ingaggio, quale sia stata la cifra, il range, tutti questi dettagli mi interessano zero, e non sto qui neanche a dire l'Inter ha fatto male o l'Inter ha fatto bene a non cedere, credetemi, credetemi, in questo momento sono talmente disilluso che me ne sbatto altamente, anzi, vedendola con il prendere Samarzic significa non dare una possibilità a Sensi quasi quasi va bene così, quasi quasi a dover scegliere, quasi quasi dico va bene così, perché Sensi dopo le 30 presenze della scorsa stagione col Monza e dopo la preseason con l'Inter, una chance Sensi se la merita, perché come ho detto mille volte, se sta bene, è il centrocampista più forte che è l'Inter, cioè per caratteristiche, per come vedo io il calcio, il calcio che piace a me, un Sensi deve giocare nella mia squadra ideale, nella mia Inter un Sensi deve giocare, poi sappiamo che ci sono tanti altri dettagli, tanti precedenti legati a Sensi e quindi è inutile stare qui a perderci in chiacchiere, ma questo è il momento decisivo, è il momento della verità, la trattativa Samarzic dice ok, a me interessa quello che accadrà dopo, il segnale, l'unica cosa importante in questo momento, è il segnale che darà l'Inter, è il segnale che deve dare l'Inter dopo aver chiuso la porta in faccia a Samarzic, perché un conto è se tu chiudi la porta in faccia perché vuoi fare quello che ce l'ha duro, quello che è in erezione, quello che è virile e tu vuoi fare il duro, il macio, ci può anche stare, ma poi devi dimostrare di avere delle doti interessanti, poi devi dimostrare che dopo aver sceduto 5 titolari, in qualche modo perso 5 titolari, poi devi dimostrare di fare una rosa competitiva, di fare una rosa, non dico di migliorarla, ma quantomeno di non indebolirla troppo, perché io torno sulla narrativa che ci è stata fatta a fine stagione, e quindi a inizio della prossima, prima dell'inizio della prossima, che sta praticamente qualche giorno e siamo in capo, la narrativa è stata molto chiara, nessuno può ritrattare, mi sembra che tutti abbiano detto che dopo il percorso dell'Inter in Champions, è stato ribadito più volte, e grazie al percorso dell'Inter in Champions, l'Inter non aveva bisogno di fare nessuna cessione illustre, nessuna cessione importante, ovvio che non facendo cessione non poteva fare neanche mercato, quindi ergo l'Inter vende Onana profumatamente, l'Inter vende Brozovic, anche qui una trattativa delle entrate cospicue, se valutiamo sia l'ingaggio del giocatore che non era più a carico dell'Inter, sia appunto il cartellino, e in più l'Inter, ricordiamolo, deve fare a meno dell'ingaggio di Dzeko, dello stesso Lukaku, di Skriniar, appunto di Brozovic, ma anche di Gagliardini, di D'Ambrosio, di Andanovic, cioè l'Inter ne ha fatte di privazioni, ecco, diciamolo, quindi l'Inter ha perso 5 titolari, Onana, Skriniar, perché comunque l'anno scorso Skriniar era un titolare dell'Inter, soprattutto nella prima parte di stagione, poi sappiamo com'è andato, ma 2 titolari, Brozovic 3 titolari, Dzeko 4 titolari, Lukaku, stiamo parlando di 5 titolari, stiamo parlando di 5 titolari che l'Inter ha perso, E allora, visto le cessioni di Onana, di Brozovic, visti gli ingaggi di cui abbiamo discusso, il mercato dell'Inter non può fermarsi a Turam, parametro 0, Sommer perché ceduto, perché ceduto appunto Onana e Sommer 6 milioni, Bissek 7 milioni e Frattesi, unico vero, unico vero grande acquisto dell'Inter ad oggi, no, no, la rosa, la rosa è Arnautovic, c'è Arnautovic, c'è Arnautovic, 8 più 2 Arnautovic, l'Inter dopo aver perso 5 giocatori e li abbiamo ceduti, li rimpiazza così, è incompleto, senza ombra di dubbio, è un mercato ad oggi incompleto, è vero, non è finito il calcio in mercato, ragione per il quale questo è il momento della verità, questo è il momento decisivo, il momento della verità, nel momento in cui non ci si nasconde, non ci si deve nascondere. Allora, quindi, un conto è se l'Inter non va avanti per Samarzic, perché, conscio del fatto che, come dicevo prima, il reparto è bello già coperto, Senzi ha fatto una grande precisione, questa e quell'altra, quindi per questo motivo non c'è stato un rilancio. Un altro conto è quello che purtroppo io credo è che quasi abbia raccolto la palla al balzo per non andare avanti in questa trattativa. Questo è la mia paura più grande, ma questo lo vedremo se l'Inter farà, l'Inter deve fare ancora due acquisti, ragazzi, non prendiamoci in giro, l'Inter ha bisogno di un grande difensore e l'Inter ha bisogno di un grande attaccante. C'è poco da prendersi in giro, un grande difensore assolutamente sì, assolutamente sì, perché braccietti di destra siamo passati da Skriniar a Darmian, è lo stesso D'Ambrosio, oggi c'è Bissek, oggi c'è Bissek e Darmian, che ha una certa età, a Cerbi, De Vrij hanno una certa età, cioè anche dietro l'Inter, sembra che l'Inter dietro stia magnificamente, no, non sta magnificamente anche dietro. Se vediamo l'anagrafica dei giocatori, le cessioni, quella di Skriniar, cessione che poi è anche cessione, ahimè, e purtroppo non siamo bene neanche dietro. Bissek, tutto da scoprire, tutto da vedere, e poi lì davanti, Correa o non Correa, a me sbatte, non me ne frega di Correa, perché lo so che Correa non lo piazzi facilmente, ma non ci possiamo permettere di giocare con Lautaro, Turam e Arnaut, cioè come attacco non ci siamo, secondo me, non può bastare se parliamo di una squadra che deve vincere lo Scudetto, perché questo sulla carta è l'obiettivo per cui si sta lavorando e questo non basta, secondo me non può bastare. Ad oggi per me l'Inter così, mentre in tanti ci danno la favorita, per me così l'Inter non è la favorita. Se negli altri anni per me l'Inter doveva e poteva vincere lo Scudetto, quest'anno siamo indietro, perché sì, grande centrocampo, ma come dicevo prima abbiamo perso cinque titolari. Queste cose diciamolo, diciamolo. Quindi io mi aspetto e chiudo, mi aspetto un grande attaccante, o perlomeno un Beto, no? Qualcosa, è un difensore. Io mi aspetto questo, ragazzi, e se queste figure non arrivano, se non arriva nessuna di queste due figure, ma è brutto segno, è veramente brutto segno, significa stiamo attenti perché ad oggi in qualche modo siamo riusciti a essere competitivi dal dopo conto in poi, non mettendoci per nulla a grano. Ma se continuiamo così, prima o poi finiranno i miracoli sportivi, finirà anche rientrare nelle prime quattro posizioni, finirà tutto ciò e torneremo a parlare di Kuzmanovic, di Invilà e Schelotto forse. Stiamo attenti e speriamo bene, speriamo molto bene, ma io inizio un po' a preoccuparmi. Lo so, io sono molto pessimista, sono molto negativo, quindi è un'allarme che sicuramente riguarda solo me adesso. Però stiamo attenti, stiamo molto molto attenti. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentatevi al canale se volete iscrivervi al canale. Un grande abbraccio da Neschi. Ciao!